Dobbiamo cominciare a pensare, ad immaginare un futuro per questo Paese, anche sul piano industriale. Viviamo una crisi gravissima, finanziaria, globale, accompagnata da una crisi ambientale per certi versi a rischio di irreversibilità. Stiamo deindustrializzando questo Paese, stiamo distruggendo la ricerca, l'università. L'affrontare la crisi ambientale in modo nuovo ci può offrire l'opportunità di dare risposte di sistema. Uno dei casi esemplari è quello del cambiamento climatico a cui va incontro il nostro Paese, che significherà vedere il nostro Paese diventare semiarido, subtropicalizzarsi e diventare semiarido. È assolutamente nell'ordine delle cose. Questo vuole dire che i nostri terreni già poveri di sostanza organica rischieranno di andare verso la desertificazione per l'appunto e dunque massimo è il bisogno di riportare fertilità nei nostri terreni agrari. Certo, la prima misura è evitare di cementificarli ignobilmente, come è stato fatto in questi anni, ma poi c'è bisogno di sostanza organica. La sostanza organica per i campi e per i terreni una volta veniva dalla zootecnia, sarà necessario recuperare anche quella, ma oggi la sostanza organica per i nostri terreni deve venire dagli scarti agroalimentari anche domestici. Ecco perché è fondamentale la raccolta differenziata del rifiuto organico nelle case. Ecco allora che per semplificare questo recupero sotto forma di fertilizzante dei nostri rifiuti organici conviene che li raccogliamo dentro un materiale che è a sua volta trasformabile in fertilizzante biodegradabile e compostabile. Questo è un progetto essenziale ed è un tema sul quale noi abbiamo ancora punti di eccellenza che il mondo ci invidia, vediamo di non distruggerli.